Salve a tutti ragazzi, siamo sempre il mio Menzo e benvenuti in questo nuovo video sul mio canale. Buon lunedì ragazzi, buon inizio settimana, come state? Spero che vada tutto bene. Allora ragazzi, prima di cominciare, ieri è uscito un nuovo episodio della carriera natore con il Leeds, il penultimo episodio nel quale vi spoilerò quando uscirà il Road to Victory. Quindi andatelo a recuperare, settimana scorsa sono usciti anche tanti altri video, un nuovo video appunto delle vostre carriere e un nuovo episodio della 4 Years Challenge. Quindi mi raccomando, recuperate tutti i video utili. Oggi siamo qua con un nuovo episodio delle vostre carriere d'allenatore, io direi di non perdere troppo tempo, mi raccomando, lasciate un bel mi piace subito per supportare la serie. Entriamo nel video con la carriera di Donato, che mi manda un po' di foto della sua carriera natore con il Colchester, io questa qui me la sono già un po' spoilerata, per sbaglio, in realtà. Ha vinto cinque campionati, quattro coppe nazionali, una coppa continentale, e immagino anche qualche altra supercoppa, e però mi scrive a mezzo sono a inizio stagione. Inizio nuova stagione. Guardate la formazione. Questa è la formazione titolare di questo Colchester, che parte dalla quarta divisione inglese, che purtroppo non sta andando bene, ragazzi, da tenere sott'occhio, perché è ancora lontana dalla retrocessione, ma non si sa mai. In ogni caso, Donnarumma, Hickey, Zagadug, Vardyol, Casas, Gravenberg, Sulemana, Luis Enrique, Karabetz, o Karabek, Esposito, Adamu. In panchina, signori. Vedo, a parte Turbinio di emozioni, Turbin, un salvio intrigante. Poi gli altri sono Harriet Stevenson, Gambin e Clampin, che gli ho venuti subito, So Unmi, che me lo ricordo. Poi è Mamma mia Norris, mamma mia. Mamma mia. Ma non hai la panchina, fratello? Cioè, non hai la panchina? No, un po' di panchina dovresti averla. Un po' di panchina dovresti averla. Però, insomma, tornando alla titolare, allora, ci sono un po' di nomi classici, un po' di nomi classici, perché, partendo dalla quarta divisione, io avrei provato a far crescere qualcosina di nuovo, qualcosina di mai visto, qualcosina di particolare. Per quanto riguarda la fase difensiva, la zona difensiva, direi che li conosciamo tutti. Partendo da Ikei, Casas, l'abbiamo utilizzato nel rotto vittori con il Malaga, Sacadu, Guardio e Donnarumma non hanno bisogno di presentazioni, come non ce l'ha Gravenberg e come non ce l'ha Sulemana e Karabek, perché li abbiamo già visti in passato, anche Esposito e Adamu. Ancadamo utilizzato in un Road to Victory. Luis Enrique può essere l'unico che magari non abbiamo in mente, non abbiamo chiaro, ed è praticamente un, alla destra, a esterno-sinistro, 18 anni, del Marsiglia, con 71 di ovvero iniziale. A 18 anni, 71 di ovvero iniziale, non è malissimo, devo dire. 79 di potenziale, perché, non so, sinceramente perché gli hanno dato questo potenziale, mi sembra molto basso, mi sembra molto basso. non so se c'è stato un downgrade, in ogni caso, è bassino questo potenziale, e come dimostri tu, possono crescere davvero moltissimo questi ragazzi, che ha già una buona accelerazione e già una buona velocità. Per il resto, non ho molto da dirti, se non la panchina, in panchina, a parte Stevenson, che è devastante, non so, poi quest'anno non l'ho provato, ci vuole qualcosina di più, ci vuole qualcosina di più. Sai, per quanto riguarda la crescita, un 5 ci sta tutto, per quanto riguarda l'originalità, insomma, potevi fare qualcosina di meglio, potevi crescere qualche giocatorino delle basse leghe, che ti potesse dare più soddisfazione, per quanto riguarda la difficoltà, partire con il Colchester, comunque non è semplice. Però ragazzi, cioè, io ve lo dico, io voglio rifare la carriera con il Colchester, cioè, voglio di nuovo rifare, voglio riniziare una carriera con il Colchester, mi ci sono affezionato troppo a sta squadra, ve lo giuro. Cioè, io a rivedere anche solo Herriot, che non è stato uno dei protagonisti della mia vecchia carriera, quasi mi viene, quasi, vorrei riprovare il suo Unmi, da quanto mi sono affezionato alla squadra. Passiamo avanti. Mark mi scrive e mi manda la sua carriera al natore con il KFC, che non è la marca di The Food, ma è una squadra, se non sbaglio, della terza divisione tedesca, e sì, questo tuo messaggio mi conferma un po' quello che sto dicendo. Vinto Champions e Bundes, giocatori più conosciuti, tipo Immobile o Vandembe, che sono stati presi solo l'ultimo anno per fare il mega squadrone, tutte le altre stagioni usavo principalmente i miei. Osauer, bomber, baggatissimo su FIFA, difficoltà campioni, ma è il giusto per me, non nerdo molto, anche per mancanza di tempo. Divertimento 10, squadra consigliatissima, ottimo, andiamo a vedere, alla fine, comunque, ti sei portato a casa un bel po' di trofei, hai fatto un ottimo lavoro, e abbiamo Radecki, Frimpong, Sterjuk, Vardjol, e Traore. Poi abbiamo Veritou, Van de Beek, Bandinelli, Politano, Usauer e Kamara. Vediamo la panchina, un robeta interessante, devo dire che c'è robeta interessante, come Shevalier, il portiere, ottimo panchinaro di Radecki, Muldur molto bene, molto bene Zaccagni, che ti può dare quel ricambio intrigante a Politano e Usauer. Devo dire che però, un centrocampista centrale, bene anche Cistana, devo dire che però, ma hai finito, l'hai conclusa così la carriera? Non sono cresciuti tantissimo. Anche tu, anche quel Togni lì non è male. Sai che non lo conosco Togni? Comunque dicevo, secondo me, centrocampista centrale, serve per forza. Visto che sei in Germania, mi sentirei di consigliarti, o Amiri, che ti può dare qualcosina di più anche in fase offensiva, o Serdar, invece lui ti può dare qualcosina di più in fase difensiva. Per quanto riguarda Usauer, non lo conosco, ed è un giocatore del KFC, 26 anni, 64 di overall, 64 di potenziale, molto rapido, molto rapido, non ha dei grandi dati offensivi, l'hai fatto crescere di 6 punti overall, niente di che, però alla fine, se ti rende in campo, va bene così, anche perché immagino che adesso abbiamo pure una trentina di anni. Per il resto, quel Camarali in attacco, Kim, Kim, Ming, Yae, allora non saprei dirti quale Camarà è, perché ci sono un po' di Camarà, effettivamente, che potrebbero. Uno potrebbe essere Mohamed Kesseli Camarà, attaccante della Thaispor, oppure, potrebbe essere il Camarà che giocava in Premier una volta, a WKR Camarà, che adesso gioca nel Gion. Magari se stai guardando questo video, fammi sapere. Ero molto intrigato, poi, da Togni. Oh, un giocatore interrogante, questo Togni. Gaston, Alberto Togni. Esterno sinistro, principalmente, ti può fare tutta la fascia dell'indipendiente, scusate, 70 di Oval, 60 di potenziale, dati già discretamente sviluppati, qualcosina nella fase offensiva gli manca, secondo me. Avendo 22 anni, qualche dato un pochettino più sviluppato me lo aspetterei. Però intrigante, tu l'hai fatto crescere qualcosina di più. Però ecco, alla fine dei conti, alla fine della fiera, io direi che sicuramente un centrocampista, se ancora devi finire la carriera, ti manca. L'attacco, anche forse qualcosina si potrebbe fare, però se ti trovi bene con questi calciatori, io non andrei a consigliarti chissà che cosa. A parte la fase difensiva, però, insomma, è abbastanza varia. Ci sono giocatori che non si vedono spesso, ci sono giocatori un pochettino più classici, sicuramente la difficoltà è abbastanza alta, un bel 5, anche l'originalità, c'è qualche nome intrigante, ti posso dare 4, e per quanto riguarda invece la crescita, ecco qua, per quanto riguarda la crescita, la crescita è molto, molto bassa. Però, intrigante questa carriera, non conoscevo questa squadra. Gianluca Turri 10, questa è la mia carriera con l'Harrogate, tipo la tua col Colchester, Alla settima stagione ho fatto il triplete. I giocatori che vedi nella lab rosa sono degli svincolati che ho cresciuto in modo esponenziale. Spero che ti piaccia e per una prossima carriera ti straconsillo Jones. Ciao, un bacione, un salutone Gianluca, grazie per la tua carriera. Allora, vediamo un attimo, questi sono tutti i giocatori di cui mi hai parlato. Allora, andiamo a vedere prima di tutto la squadra titolare. Ah, ecco di che Jones stai parlando. Abbiamo Finotto, Dedic, Gertruida, Schurz, Nikolic, Bellingham, Kamavinga, Cabbit, Bosco, Jones e Zolis. Allora, vista così, dico la verità, mi piace come squadra. È una bella squadra, è una bella carriera, hai fatto un bel lavoro, le crescite sono tutte praticamente omogenee, cioè è una squadra omogenea. Guardate che bella squadra titolare, ragazzi. Guardate che bella squadra titolare. Io, vista così, apprezzo questa carriera. Poi, Bellingham e Kamavinga magari li voleva provare, per il resto, abbiamo veramente, veramente una bella squadra. Molto bene, devo dire anche per quanto riguarda la panchina, perché comunque, per sostituire Ricky J. Jones, un Brobey ci sta, sulla destra o sulla sinistra, un Demir, hai qualche giocatore della primavera, qualche svincolato, quindi devo dire che da questo punto di vista hai fatto un ottimo lavoro. Finotto, non so se è il Regen di Buffon, in ogni caso, che portiere, che colpo, cavolo, tanta roba. Dietro poi hai Fiedosevic, sulla sinistra Nikolic, tanta roba, ottimo, veramente ottimo utilizzo della primavera o comunque, ottima, ottima, ottima capacità di ricerca di questi svincolati. Anche Kabì, il trequartista, tanta roba, molto bene. Anche Bosco, ottimo, mamma mia, che bestie. In Slovacchia, veramente, veramente tanta roba. E qui abbiamo Ricky J. Jones. Ragazzi, io penso che ormai questo calciatore sia conosciuto da tutti. Nel caso, andiamo, e ve lo faccio vedere, perché, perché già l'anno scorso Ricky J. Jones stava iniziando a emergere come Gemma nascosta o comunque come giovane talento incredibile, perché praticamente noi ci troviamo davanti un attaccante con doti fisiche che non elevate, comunque un metroottantadue, abbastanza magrolino, settantachilogrammi, può farti anche la sinistra del trequartista, come ben si vede, velocissimo, rapidissimo, diciassette anni, e questa è la cosa migliore, 59 di overall, 82 di potenziale. Quindi questo qui è un calciatore che tu ce l'hai già incredibilmente sviluppato nella fase di movimento per quanto riguarda la velocità, e te lo puoi modellare un po' come ti pare. Se lo preferisci sull'esterno, allora arrivai gli vai a migliorare magari il piede debole o le mosse abilità, il cross, la precisione dei passaggi, eccetera, eccetera. Se invece lo vuoi tenere prima punta gli vai a migliorare il fisico, la finalizzazione, quindi te lo puoi modellare, cresce, specialità velocista, quindi ragazzi veramente tanta roba questo calciatore. Ed ecco qui che ci fa vedere i suoi dati più nello specifico. Mamma mia, Riky J. Jones ragazzi, che bestia, che bestia. Ecco infatti io se l'avessi dovuto tenere prima punta l'avrei migliorato inizialmente forse nella finalizzazione e nel fisico proprio con l'allenamento torre. Perché comunque mi migliori un po' nella forza, nella precisione di testa, nell'equilibrio, nella finalizzazione. Secondo me torre era l'allenamento preciso, giusto, da dare all'inizio poi dopo chiaramente sviluppavi il resto del calciatore. Non dico che è una carriera ricercata ma il fatto che ti sia piaciuto magari o utilizzare la primavera o andare a cercare comunque questi calciatori che ogni tanto il gioco ti crea per creare le seconde linee mi stava cadendo il pad. È una cosa che mi piace. Secondo me ha fatto davvero un ottimo lavoro e costruito innanzitutto una prima squadra fortissima. Qui oltre a chiaramente i giocatori creati dal gioco vi vado a dare una visione di Dedic perché è un terzino che hanno aggiunto di recente eccolo qua Amar Dedic terzino destro terzino sinistro che non ho mai provato 63 di overall a 17 anni 81 di potenziale e questo è il suo esagono comunque ancora chiaramente a 17 anni alcuni dati vanno ancora sviluppati al meglio però secondo me hai fatto un'ottima formazione mi piace poi ovvio che Bellingham e Kamavinga magari li volevi provare hai fatto bene i consoles ma per il resto ti sei mosso veramente molto molto bene e sono cresciuti molto i tuoi ragazzi quindi complimenti mi piace molto Fabrus mi scrive ultima carriera dell'episodio ciao Menzo questa è la mia carriera con il Bologna durata solo 4 anni perché ormai non era più competitiva la serie A per la mia rosa almeno a mio avviso e questo purtroppo è dato dal fatto che non si riesce a fare una partenza dalla serie B non si riesce a fare una bella scalata è un segno di purtroppo mancanza di una seconda Lega ma è un segno anche positivo perché le squadre di serie A si stanno rinforzando con giocatori intriganti poiché nella realtà magari alcuni non vadano molto bene però per esempio il Bologna il Parma hanno squadre che per una carriera allenatore possono andare possono andare bene perché hanno già dei ragazzi intrigantissimi ragazzi scusate la ripetizione della parola ragazzi e quindi comunque sono carriere che ti vanno a durare dai 3 ai 4 anni ci sta come puoi ben vedere Martinelli è il giocatore è il giocatore e ti posso assicurare che in game è devastante se parli di Martinelli vabbè per forza che poi dopo non è non è competitiva figlio mio però anche tu e ti vai a prendere Martinelli ti vai a prendere Coutinho ti vai a prendere Gravenberg che miseria è vero ragazzi così allora Radecki Hikei Rugani Maguire Dagba Gravenberg Tiago cioè figlio mio Coutinho Orsolini Ken e Martinelli avrai provato a far crescere qualcosina in più del Bologna perché qualcosina di intrigante ce l'ha tipo Olsen lì secondo me potevi dargli quello sprint in più come potevi darlo a Binks perché quel Binks lì difensore centrale è molto molto promettente sono comunque contento che tu abbia almeno tenuto Hikei o Hikei Dominguez cioè sinceramente non vedere Dominguez in questa squadra come titolare mi dispiace perché ragazzi Dominguez anche quest'anno spacca i culi niente da dire sono contento per Orsolini ci sta anche Ken avrei evitato quel trio lì di centrocampisti sinceramente Thiago Gravenberg e Coutinho perché uno Dominguez due ci poteva stare Olsen o comunque ci potevano stare dei calgiatori più intriganti per il Bologna ecco non Thiago Coutinho Gravenberg avrei sinceramente evitato mi intriga molto invece Sorlot è un nome che sinceramente è vero che adesso Sorlot gioca all'Ipsia ma è un nome che al terzo anno per esempio al Bologna io lo potrei anche vedere come carriera devo dire che a parte Dagba mi sembra che comunque la squadra sia abbastanza la squadra titolare sia abbastanza comunque omogenea mi dispiace molto anche non vedere Tomiyasu ecco io avrei puntato molto su Tomiyasu perché è un giocatore che ti può fare il doppio ruolo sia difensore centrale che terzino destro però comunque quelle sono scelte di mercato va bene così avrei puntato più su qualche nome esotico come comunque di recente le squadre così di media bassa classifica stanno facendo mi sarei comporato in questo modo ah abbarrate bene ragazzi le mie valutazioni sono semplicemente fatte sul non tanto sul caso ma sul sull'istinto ecco io vedo la squadra istintivamente mi viene da dire quella specifica non critica quello specifico consiglio semplicemente perché comunque la mia carriera con lo Spezia non si discosta troppo da questo non si discosta troppo da questo però semplicemente se tu mi dici cavolo il campionato italiano non è più competitivo però poi in centrocampo c'hai Thiago Alcantara Gravenberg Coutinho allora ti dico cavolo la prossima volta si va bene il Bologna ma ti enti vignato magari sulla tre quarti ti enti scovolse fai crescere loro fai crescere Dominguez vedrai che anche se hai i soldi del mercato e non li spendi per forza tutti ti divertirai e troverai la carriera un pochettino più complicata va bene signori finisce qui anche questo episodio devo dire che qualche talentino l'abbiamo visto oggi sicuramente il migliore è Ricky J. Jones non so se qualcuno di voi ancora non lo conosceva ma adesso adesso dovete per forza provarlo noi ci vediamo in un prossimo video lasciate un mi piace commento e consiglio alla prossima ciao a tutti ragazzi